Justin Bieber è super hot in black and white Siamo abituati a vedere Justin Bieber con le sue solite t-shirt bianche, ma questa volta il cantante canadese ha deciso di stupire con un outfit un po' più elegante. Il nuovo look di Justin Bieber. . . Per adesso Justin Bieber non sembra volerne sapere e si gode la ritrovata tranquillità dopo la fine, prematura, dei suoi concerti in giro per il mondo. . D'altra parte lo aveva annunciato, se non avesse interrotto il turno avrebbe fatto le spese la sua stabilità mentale e non c'è niente di più importante, nella vita di una persona, del benessere psicofisico. . Voglio che la mia carriera sia sostenibile, ma voglio che anche la mia mente, il mio cuore e la mia anima siano sostenibili. Così posso essere l'uomo che voglio diventare, il marito che eventualmente sarò e il padre che voglio essere. . Evidentemente Justin Bieber ha deciso di correre ai ripari prima che fosse troppo tardi, visto che già la strada che aveva intrapreso segnata da un arresto e da varie risse non stava portando nulla di buono. . . Justin Bieber non usa i social network solo per pubblicare le immagini che lo raffigurano durante i concerti o nel bel mezzo della sua vita quotidiana, ma anche per veicolare messaggi importanti come quelli portati avanti dalle battaglie sociali. . Sul profilo Instagram della pop star è ben visibile il logo giallo di Black Lives Matter, il movimento di protesta nato negli Stati Uniti che denuncia le violenze portate avanti soprattutto dalle forze dell'ordine nei confronti degli afroamericani. . Sono un canadese bianco e non saprò mai cosa voglia dire essere un afroamericano, ma quello che so è che sono pronto ad alzarmi e usare la mia voce per fare luce sul razzismo, perché è una cosa vera e non è mai stata così visibile come lo è oggi e siamo tutti figli di Dio e siamo tutti uguali. . Un messaggio importante e contenente delle parole di speranza e libertà, le quali hanno fatto piacere ai fan di Justin Bieber, sanno di avere di fronte una persona che non si tira indietro quando si tratta di denunciare le ingiustizie che permeano le società contemporanee. . Qualche tempo fa Gene Simmons, il mitico cantante dei Kiss, si era espresso su Justin Bieber, mostrando tutto il suo disappunto per la cancellazione del suo tour. . Recentemente ha deciso di pronunciarsi ancora, ma con un tono più soft rispetto alla scorsa volta, va bene, è giovane. Può capitare di fare errori quando si è piccoli. . Basta che stia lontano dall'alcol e dalle droghe e… nessuno nega che abbia talento. Quando inizierà a fare musica seria invece di canzoni per ragazzine, credo che rimarremo tutti sorpresi. .